Passano gli anni per la precisione 34 e la rassegna regnana dedicata all'arte della natività rimane e si riconferma da Guinness dei primati. 400 infatti presepi provenienti da tutto il mondo che si alterneranno nella parte interna dell'anfiteatro romano. Il percorso partirà dal suggestivo spaccato dei sassi di Matera per poi concludersi con quelle scatole magiche che sono i diorami degli artisti campani. In mezzo le più svariate e segrete tradizioni presepistiche del pianeta. Una sola però la chiave del successo. Intanto l'ambientazione e poi il fatto di essere capace di rinnovarla ogni anno perché non esiste déjà vu e quindi presentare ogni anno opere d'arte e presepi mai visti prima è in questa nostra strategia la formula del successo. La mostra sarà inaugurata il 7 dicembre e troverà il suo contrapunto ideale nella ormai consueta archiscultura a forma di stella cometa. Un taglio più sociale e intimo si lascerà invece guardare tra gli arcovoli dell'arena dove saranno esposti i presepi realizzati da persone diversamente abili del Cerris di Verona. Lungo il percorso anche una natività creata dai detenuti grazie all'iniziativa dell'associazione Microcosmo.